Ciao, sono Eddie della Natural Wine, una distribuzione con sede ad Empoli che copre tutto il territorio toscano. Siamo una distribuzione indicata per ristoratori, enoteche, vinerie, wine bar. Trattiamo vini naturali da biologici, biodinamici, naturali. Ciao, sono Luca della Natural Wine, che cos'è per voi un vino naturale? Nessun abitivo di me, pochissima soffolosa, è un grande rispetto per il territorio. Il nostro ufficio degustazione si trova in via Valdezza 123 a Empoli, vi aspettiamo per assaggiare e degustare tantissimi prodotti insieme. Seguiteci sui nostri canali social Facebook ed Instagram e scaricate il link che trovate sul portale delle prossime.